andiamo a piantare la menta qui in pratica vicino al muretto madre i mattoni guardate che contento che è a mischiare il tirriccio ragazzi andiamo a prendere altri mattoni bene bene Scusate ok allora qua abbiamo sistemato tutto vedete che robettina contenta che è la madre e adesso mettiamo giù il terreno il terriccio unito alla sabbia non c'è il terreno e adesso stiamo andando a prendere c'è una menta questa qui che è quella che è in pratica di Brooklyn le ciunghe non so se avete presente questa qua l'avevamo piantata ancora due anni fa o tre col nonno e dopo abbiamo fatto dei lavori qui e quindi è stata tirata via tutta però quest'anno è rinata e quindi adesso siccome è buonissima o è un'altra pianta no no è quella lì sempre siccome è buonissima la strapiantiamo la mettiamo là poi la menta in pratica si allarga con le radici cioè le radici pian piano crescono e fanno altri ceppi finché si rinata riempie tutto allora intanto sistemiamo qua e scaviamo dai allora prendo su questo e anche qua non facciamo quelle le lascio lì se di che profumo allora vedete in pratica abbiamo suddiviso perché abbiamo tre tipologie di menta allora una è quella in bustine questa qua una è quella che abbiamo strapiantato dal posto dove avete visto che è quella che sta di Brooklyn e la terza questa qua questa è quella da fare il mojito invece cioè la menta usata da fare il mojito adesso possiamo a piantare questa la mentina è pronta ragazzi anche questo episodio è finito e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao ciao